E ciao a tutti ragazzi del vostro mascalato ben ritrovati anche oggi per un nuovo video sempre qui sul mio canale in collaborazione con Resolution Shop ma prima di partire per farvi vedere cosa c'è dentro SIGLA! E rieccoci ragazzi, un nome, una leggenda, Harry Potter realmente stiamo parlando di una saga di film incredibile oltre che di libri ho per le mani questo bel gadget accessorio che oserei dire per casa per la stanza da abbellire e mettere in collezione perché ragazzi è una riproduzione di Edwidge, ovviamente di Harry Potter non dico a grandezza naturale ma abbastanza grande in resina ragazzi ovviamente si appende al muro è da tenere in stanza, ripeto, sembra una filata pazzesca qui ovviamente ragazzi la scatola enorme, bianca, dicevo è in resina, non è pvc la marca è Wizarding World che è scritta qua in basso, ovviamente qui c'è il nome del protagonista del nostro video inerente appunto a Harry Potter ragazzi, poi varie scritte sui bordi e niente ragazzi è fantastica, già la scatola mi fa impazzire a me, è tutta bianca magica al creatore, Harry Potter qui i loghi, vari loghi e varie scritte lateralmente ci fa vedere una stampa appunto di Edwidge sempre con la scritta Harry Potter con qui l'immagine diciamo reale del prodotto che c'è dentro sempre quel nome, qui ovviamente qualche varia scritta ovviamente le avvertenze sotto Warner Bros è sempre la marca che è Wizarding World l'altro lato della scritta è pressocchi identico ragazzi mentre sotto è tutto bianco adesso la apriamo e ve la faccio vedere eccola qui ragazzi la nostra Edwidge appena uscita dal box che più che box ovviamente ripeto è un pezzo in resina quindi al solito il polistirolo tutto bello compatto per evitare danni ragazzi è gigante è abbastanza grande ovviamente c'è la pergamena la lettera che porta a Harry Potter qui col logo vediamo se la stacco vediamo se ve la faccio vedere meglio ecco qui molto bella ragazzi ecco qui c'è la nostra Edwidge che prendo in mano ragazzi pesa non indifferentemente molto dettagliata ragazzi painting eccezionale anche lo sculpt grande apertura all'area gran pezzo ragazzi The Witcher 3 andrebbe ad appendersi così abbastanza grande ragazzi molto molto bella adesso ve la rifaccio vedere nel dettaglio rimettiamola a posto ragazzi perché è parecchio delicato come pezzo eccola qui molto molto bello bella visto che è femmina direi l'inquadriamo la pergamena ragazzi vediamo se riusciamo a rimetterla nelle zampe magari magari la appoggiamo così mettiamola lateralmente tanto per farvi capire più che altro come va impostata non riesco più a metterla ce l'ho riuscito poco fa beh gliel'appoggiamo così ragazzi grandissimo pezzo ripeto ragazzi ben fatto resina painting eccezionale e anche questa volta ragazzi spero vi sia piaciuto come vi ho mostrato questo pezzo inerente Harry Potter vi invito sempre a iscrivervi al canale ragazzi è sotto in descrizione al gruppo facebook c'è anche il link dove potete acquistare questi prodotti dove li prendo io appunto per il mio negozio di fiducia che direi ragazzi da Edwige è tutto anche da Mamascarato al prossimo video